Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo di rivoluzione agricola, scopri il trattore del futuro che sta cambiando il gioco. Supportate il canale con un like, commento e iscrivendovi, grazie. Iniziamo. Quando si parla di innovazione nel settore agricolo, il nome John Deere si distingue come un'icona di affidabilità, prestazioni e tecnologia all'avanguardia. E il loro ultimo gioiello, il John Deere 8RX, non fa eccezione. Con una combinazione unica di potenza, versatilità e tecnologia avanzata, il 8RX sta ridefinendo il concetto di trattore agricolo per il futuro. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le caratteristiche, le prestazioni e il potenziale di questo straordinario mezzo meccanico. Potenza e prestazioni senza paragoni. Il John Deere 8RX è stato progettato per offrire una potenza eccezionale e prestazioni senza rivali in una vasta gamma di applicazioni agricole. Con un motore a combustione interna abbinato a motori elettrici per una potenza combinata di oltre 500 cavalli, questo trattore è in grado di affrontare qualsiasi sfida sul campo con facilità. La sua configurazione a cingoli anziché a ruote lo rende particolarmente adatto per terreni difficili o condizioni meteo avverse, offrendo una trazione superiore e una stabilità senza compromessi. Tecnologia all'avanguardia per una guida intelligente. Ciò che veramente distingue il John Deere 8RX è la sua tecnologia all'avanguardia, progettata per rendere l'esperienza di guida più efficiente, intuitiva e produttiva che mai. Dotato di un sistema di guida autonoma e di sensori avanzati, il 8RX è in grado di ottimizzare automaticamente le operazioni di semina, aratura e raccolta, consentendo agli agricoltori di lavorare in modo più intelligente e efficiente. Inoltre, il sistema di monitoraggio remoto consente agli operatori di tenere traccia delle prestazioni del trattore e di ricevere avvisi in tempo reale in caso di problemi o anomalie. Comfort e ergonomia per lunghi giorni in campagna. Nel progettare il John Deere 8RX, l'attenzione al comfort e all'ergonomia dell'operatore è stata una priorità assoluta. L'abitacolo spazioso e ben progettato offre un ambiente di lavoro confortevole anche durante le lunghe giornate in campagna, mentre i comandi intuitivi e facilmente accessibili consentono all'operatore di controllare tutte le funzioni del trattore con facilità. Inoltre, il sistema di sospensione avanzato riduce notevolmente le vibrazioni e gli urti, garantendo un'esperienza di guida fluida e confortevole in qualsiasi condizione. Sostenibilità e efficienza energetica. Oltre alle prestazioni eccezionali e alla tecnologia all'avanguardia, il John Deere 8RX è anche progettato con un occhio alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Grazie al suo motore ad alta efficienza e alle tecnologie di risparmio carburante, questo trattore offre un consumo ridotto di carburante e un'impronta ecologica inferiore rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, la sua capacità di utilizzare biocarburanti e altre fonti di energia rinnovabile lo rende una scelta ideale per gli agricoltori che cercano di ridurre l'impatto ambientale delle loro operazioni agricole. Conclusioni, il futuro dell'agricoltura è qui. In conclusione, il John Deere 8RX rappresenta il futuro dell'agricoltura, offrendo una combinazione senza pari di potenza, tecnologia e sostenibilità. Con le sue prestazioni eccezionali, la sua guida intelligente e il suo comfort superiore, questo trattore è destinato a rivoluzionare il modo in cui gli agricoltori lavorano nei campi. Se sei alla ricerca di un trattore che ti dia il massimo in termini di prestazioni, efficienza e affidabilità, non cercare oltre il John Deere 8RX. Il futuro dell'agricoltura è qui, e si chiama 8RX. Grazie per aver seguito il video e ci vediamo al prossimo AgriVideo. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.